Franco Rangone, Gianni Mesto, Ecco Mesto, mi va di cominciare voi? Rangone sei pronto? Ce l'hai il microfono? Parla del microfono intanto, è come gli altri anni, è come gli altri anni, ci sono delle cose che non cambiano, una delle quali è il microfono, aspetta un momento, stai fermo un attimo, prima fatemi salutare chi ci sta seguendo, grazie a Video Servizi TV, Pietro e tutto il suo staff, che davano la mano al Salotto del Mandolone che hanno messo in onda, quindi io immagino che ci sarà qualcuno collegato sulla pagina Facebook di Video Servizi TV e del Salotto del Mandolone, se volete scriverci, commentare, dire come Bravo Rangone, come tutte queste cose qua, potete naturalmente farlo, adesso tocca a te. Allora il brano è un brano di Bruno Martino, ti ricorda qualcosa Bruno Martino? E la chiamano estate? No, è troppo comodo quello, un brano poco conosciuto, sabato sera, come dire martedì ed è sabato sera, questa sera insieme a te, ed è subito sera, 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 e le sono tutte, quelle di Bruno Martino le sono tutte, questa non la sai, proviamola, sabato sera, provo a sentire e mi hai detto sì, sabato sera, quando stretta me, sabato sera, hai deciso di me, della la mia vita, che adesso, cambierai, sarà difficile, sorridere, adesso che, vivrai con me, sempre, e mi hai detto sì, sabato sera, hai detto sì, sabato sera, hai creduto in me, sabato sera, hai deciso di me, della mia vita, che adesso, cambierai, e mi hai detto sì, sabato sera, quando stretta me, sabato sera, hai deciso di me, della mia vita, che adesso, cambierai, sarà più facile, sarà più facile, sorridere, adesso, che vivrai, con me, sempre, e mi hai detto sì, sabato sera, e mi hai detto sì, sabato sera, hai creduto in me, sabato sera, hai deciso di me, della mia vita, che adesso, cambierai, Giannine, siamo incompatibili, non posso venirti vicino perché ti non si chiama, Giannine Ezzio Vescovo, grazie, posso salutare...